Passo la parola a Flavio. Sì, cercherò di essere molto sintetico. Intanto, la prima cosa che voglio dire è che noi al Comitato dei Sindaci non chiediamo assolutamente niente. Per un semplice fatto, noi da due settimane a questa parte abbiamo avviato un tavolo permanente fra i sindaci del territorio e le associazioni. Significa che dovrei chiedere qualcosa a me stesso. Fino a prova contraria, questo tavolo sinergico è l'organo autorevole che sta gestendo questa cosa e lo sta facendo in piena sinergia. E fino a prova contraria, finché esiste questo tavolo permanente, io sono sicuro che noi abbiamo una forza tale che anche i grossissimi interessi che ci sono. Questa è una battaglia difficilissima, ma con questo tipo di sinergia noi stiamo andando a fare una lotta con una forza tale che è difficile contrastarci. Partendo da questo punto di vista voglio fare solo un breve passaggio per capire quanto sia stato ridicolo quello che è successo il 29 febbraio di fronte alla discarica. E non voglio dire niente di quello che è successo alla discarica, voglio dire quello che è successo qualche mese fa di fronte ai cancelli dell'Apertusola Sud di Crotone. In occasione della visita della Commissione Envi, parlamentari europei sono venuti a visitare il fiume Oliva e l'Apertusola Sud. Che cosa è successo in quella sede? È successo che nonostante la forte opposizione dell'ENI, una multinazionale fra le più potenti al mondo, la Commissione Envi ha imposto la presenza non di amministratori, che da un punto di vista di autorità hanno qualcosa, ma la presenza della rete di difesa del territorio a fare da contraddittorio ai tecnici dell'ENI. Ci riempiamo molto spesso la bocca di ciò che è tanto bello dell'Europa. La Commissione Europea ha dato una lezione di civiltà, prima all'ENI e poi evidentemente a tutta una serie di organi istituzionali e non regionali, che non hanno la capacità non di sentire le forze sociali e le forze associate di questo territorio, ma neanche i sindaci, neanche gli amministratori. Non è una questione formale, guardate, in questi giorni ho letto un sacco di cose formali. Questa questione è sostanziale e c'è poco da fare. Chiuso l'argomento perché non penso sia quello il punto. Io vorrei dire solo giusto due o tre cose perché penso che il nostro dovere in questo momento sia quello di comunicare. Per capire quello che sta succedendo, io voglio citare una serie di sovversivi, incappucciati, gente ideologizzata e cose del genere, che è il comando dei carabinieri, il comando del nucleo ambientale dei carabinieri. Che cosa dicono questi sovversivi e incappucciati? Dicono, uno, per esempio, che in Calabria non si spiega perché arriva il 7% dei rifiuti speciali d'Italia. Non si spiega, lo dicono i carabinieri nella relazione alla Commissione parlamentare. Non si spiega, loro dicono questa è una cosa ispiegabile, visto che non producono praticamente nulla, arriva già e quella di Scala Celi è una discarica di rifiuti speciali. Un'altra. Ma che cosa dicono anche, così per prendere anche al volo l'intervento che ha detto il sindaco, un passaggio del sindaco di Amanda Doriccio? Dice anche che, nonostante le tonnellate di documentazione che noi abbiamo mandato, c'è l'assoluta immobilità delle procure di tutta la regione rispetto ai rifiuti speciali e rispetto ai rifiuti solidi urbani. No, la questione, ripeto, poi ci sono procure che lavorano, non è questo, io sto semplicemente citando quello che dice il comando del luco ambientale dei carabinieri, dicono testualmente, nonostante le tonnellate di documentazione prodotta, l'immobilità della procura ci fa pensare a un'impunibilità da parte delle istituzioni e degli enti privati di questo settore. Non lo diciamo noi, lo dice il comando dei carabinieri in una relazione data alla commissione parlamentare pecorella. E' di qualche mese fa, sono documenti pubblici che tutti quanti possiamo... Allora io penso che in questa fase ci siano una serie di amministratori, una serie di cittadini, una serie di associazioni che a tutti questi enti, a tutte queste istituzioni che avranno i loro problemi, che avranno le loro cose, si stanno sostituendo e questo chiaramente per gli interessi che muovono i rifiuti è un problema. Con quale obiettivo? Lo diceva prima benissimo il sindaco di Crozia. Qui in questo territorio non c'è un problema di una discarica. Io conosco e mi sono interessato, ahimè, perché vivo qua, della discarica di Corigliano, che è saltata fuori così dal nulla perché l'ex sindaco strafaccio si era direttamente messo d'accordo col commissario Corigliano. A Rostano c'è già e c'è nel cassetto, noi lo sappiamo, un progetto di raddoppio di quella discarica. Lo sappiamo, sono documenti che escono fuori, quando si vede che la situazione è un po' come dire, che non c'è qualcuno attento, si tira fuori, si butta fuori qualche ricatto e la discarica di Scalaceli. Diceva il sindaco, io questo non lo sapevo, diceva il sindaco c'è un progetto di discarica a Mirto. Non so se è chiaro, è chiaro che è un progetto, è un piano, è un piano. Il resto se tolgono i treni, se gli investimenti sulle infrastrutture vanno altrove, se tolgono gli ospedali e se arrivano progetti di discarica e di centrali inquinanti ci sarà una ragione, c'è un progetto, c'è un piano. Diceva Monti, faccio una piccola citazione perché secondo me il periodo è importante, diceva Monti, a noi l'argomento di queste settimane è la TAV, a me non voglio entrare nella questione della TAV, a me interessa semplicemente che lui diceva la TAV a noi ci serve per essere competitivi e vuol dire che infrastrutturare Calabria, Campania, Puglia e Sicilia non ci serve per essere competitivi perché altrimenti non succedeva. Significa che per essere competitivi a Calabria, Campania, Puglia e Sicilia servono discariche, servono centrali, servono gli inceneritori e a proposito di inceneritori è sempre la commissione parlamentare che dice non si capisce perché hanno fatto l'inceneritore a Gia Tau, stanno bruciando la roba delle altre regioni e c'è un progetto di un terzo inceneritore, dove è il progetto del terzo inceneritore? Indovinate qual è il nostro obiettivo, secondo me l'obiettivo di questo tavolo sineggio. Da questo territorio deve arrivare uno stop a una macchina di vora territorio che è il sistema di rifiuti in Calabria che è mosso da interessi pesantissimi in cui c'è anche dentro l'andrangheta e questo non siamo sempre noi che lo diciamo, ma è sempre la commissione parlamentare di inchiesta che lo dice, attenzione, sovversivi o commissione parlamentare di inchiesta? L'obiettivo è quello di fermare questa macchina perché le soluzioni ci sono, perché in Calabria il problema di rifiuti tecnicamente è una fesseria con la densità che si ha in Calabria, con la densità che si ha in Calabria, con la produzione di rifiuti che si ha in Calabria attraverso la raccolta differenza tra i ricicli di utilizzo si risolve il 95% del problema di rifiuti. Il resto può andare nelle discariche di servizio, può andare dove volete, ma con le discariche private che abbiamo adesso, sottolineo private, il problema con un ciclo di rifiuti virtuoso non è che sarebbe risolto, ne potremmo chiudere 3, 4, 5, per cui l'obiettivo è quello di fermare questa macchina, cominciamo da qui a fermare una discarica che nel momento in cui si apre poi diventa un problema per tutto il territorio e per i figli e per i figli dei nostri figli e per i figli dei figli dei nostri figli, perché il territorio queste cose come le discariche non si fermano quando le chiudi. Cioè se noi chiudiamo la discarica di Bucita il problema non è risolto, quella cosa lì continua a pesare sulla salute dei figli dei nostri figli e così via. Fermiamo questa macchina, dopodiché continuiamo questa sinergia questo tavolo che diventa sempre più forte, perché vedo sempre più sindaci e più persone che ci avvicinano, questa sinergia per costringere quelle istituzioni che probabilmente non si sono accoste che una soluzione c'è, a prendere quel tipo di soluzione. Lo facciamo chiaramente perseguendo gli interessi, non gli interessi privati che muove questo ciclo dei rifiuti ma gli interessi delle nostre comunità e del nostro territorio. Grazie.